Sono Riccardo del Moscow Mule Bar e quest'oggi prepareremo un bellissimo drink con l'amaro seri verbas, un amaro triestino con delle noti molto forti di caffè e di assenzio. Per valorizzare al meglio questo drink ho deciso di utilizzare in parti uguali sia l'amaro utilizzandone un'oncia che una parte di vodka per fortificare la base alcolica. Utilizzeremo una vodka Finlandia, ovviamente la vodka con il fatto di essere neutra e pulita nel gusto va a fortificare l'amaro senza andare ad intaccare il suo sapore. Utilizzeremo anche due gocce di orange bit e andremo a stirrarlo in maniera tale da farlo diluire il più possibile. Procederemo al servizio in una coppa doppia dove lo andremo a terminare con una spuma a base di caffè, una piccola punta di pepe all'arancio e una spuzzata di assenzio per di rinvigori e il suo sapore. A voi!